In casa Volvo arriva la nuova V60, la station wagon di lusso è in grado di unire un design e forme accattivanti alla sicurezza e alla praticità dell'utilizzo quotidiano. Condivide la piattaforma SPA con la nuova XC60 e con altri quattro modelli top di gamma della serie 90. Gli ingegneri e i progettisti svedesi introducono sulla V60 interni spaziosi e curati nei minimi dettagli, oltre ai più innovativi sistemi di supporto alla guida e tecnologie a garanzia della sicurezza. Inoltre chi la vuole acquistare può farlo con l'esclusivo servizio in abbonamento car by Volvo di Volvo Cars per avere accesso alla vettura pagando un canone fisso mensile invece che acquistarla. Considerando l'impegno di Volvo nei confronti dell'ambiente, viene proposta con due varianti di propulsore ibrido plug-in. Un'unità ibrida plug-in benzina T6 Twin Engine con trazione integrale in grado di sviluppare una potenza complessiva di 340 cavalli oppure il sistema sempre ibrido plug-in benzina con trazione integrale T8 Twin Engine da 390 cavalli. Nella gamma dei motori benzina tradizionali invece troviamo il T5 e il T6, mentre chi preferisce il diesel può scegliere fra l'unità D3 o la D4. La vera protagonista a bordo è poi la sicurezza, il sistema City Safety, giusto per citarne uno con tecnologia Auto Brake, utilizza la frenata automatica e dispositivi di rilevamento per aiutare il guidatore a evitare collisioni potenziali ed è l'unico sistema oggi commercializzato in grado di riconoscere pedoni, ciclisti e animali di grandi dimensioni. Un'auto per vivere l'ambiente ma soprattutto l'aria aperta. Il concept della Rifter è che Peugeot porterà al Salone di Ginevra per tutti gli amanti dell'avventura. Trazione integrale, pneumatici specifici, altezza dal suolo maggiorata gli permettono di andare ovunque grazie alla tenda. Overland sul tetto permette di passare le notti all'aperto dormendo comodamente. Per spingersi ancora oltre a bordo ospita la mountain bike elettrica Peugeot EM02 FS Power Tube con batteria integrata direttamente sul telaio. Nel frontale troviamo un elemento di protezione dagli schizzi tra cofano e calandra mentre le barre sul tetto e i cerchi da 16 pollici diamantati completano lo stile adventure. Nissan e Dena inaugurano il prossimo 5 marzo il test sul campo di Easy Ride, il nuovo servizio di mobilità robotizzato a cui le due aziende stanno collaborando, che si rivolge a chiunque desideri raggiungere la meta desiderata a bordo di un veicolo automatizzato. Durante il test sul campo in Giappone i partecipanti potranno viaggiare all'interno di auto dotate di tecnologia guida autonoma seguendo una rotta prestabilita utilizzando poi un'app apposita. I passeggeri potranno dare indicazioni su ciò che desiderano fare. Ai partecipanti verrà chiesto di completare un sondaggio sulle esperienze in generale, una sperimentazione che permetterà a Nissan e Dena di acquisire nuove conoscenze attraverso il collaudo del servizio Easy Ride aperto al pubblico per capirne le potenzialità commerciali. L'obiettivo iniziale è lanciare Easy Ride in un contesto circoscritto per poi proporre un servizio completo nei primi anni del 2020.